come collegare le cuffie alla nostra playstation 3 in questo caso userò il modello della turtle beach px21 iniziamo ad analizzare quello che abbiamo le cuffie con il cavo che arriva alla centralina e termina con questi due spinotti un usb e un jack inoltre abbiamo questo semplice cavo che ha un ingresso con un jack e un'uscita con due spinotti uno bianco e rosso ci servirà il cavo component della playstation 3 questo qui quello che viene consegnato nella scatola della playstation per la prima connessione del televisore alla playstation iniziamo connettendo la presa usb che gestirà il microfono davanti alla nostra playstation 3 nell'ingresso usb inseriamo in secondo luogo dobbiamo connettere il jack chiaramente dello stesso colore dentro lo spinottino quindi abbiamo questi due spinotti uno bianco e uno rosso dovremo connetterli ai rispettivi bianco e rosso del cavo component rosso con rosso bianco con bianco da ultimo colleghiamo il cavo component sul retro della playstation per installare chiaramente dobbiamo accedere al menu della playstation andiamo nella sezione impostazioni dell'audio impostazioni di uscita audio e selezioniamo connessione audio tramite scart avi multi che è il cavo componente x invio finito così abbiamo configurato l'audio che sentiremo attraverso le cuffie per regolare invece quello che sentiremo attraverso il microfono o far utilizzare poter utilizzare microfono dobbiamo andare nell'impostazione degli accessori impostazioni dei dispositivi audio quindi possiamo regolare il volume nel nostro microfono consiglio di tenerlo alto non deve farsi sentire abbiamo il dispositivo d'ingresso selezioniamo le cuffie che ci interessano abbiamo tarjo beach oppure i miei vecchi headset questo per quanto riguarda l'ingresso e anche per quanto riguarda l'uscita quindi ok in questo modo dovremmo avere le nostre cuffie perfettamente installate e pronte per l'utilizzo